Buongiorno a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro Bertola e scopriamo insieme a voi Alcune funzionalità nuove di Google Now in italiano Allora partiamo con quella dei VIP, nel senso possiamo chiedere informazioni sui personaggi famosi Informazioni su Brad Pitt Come potete vedere ci ha dato informazioni su Brad Pitt Ora proviamo a chiedere informazioni sugli hotel nelle vicinanze Indicami degli hotel nelle vicinanze Informazioni sugli hotel nelle vicinanze Hotel nelle vicinanze Come potete vedere bisogna trovare la giusta combinazione Proviamo adesso Cerca hotel nelle vicinanze Ecco le schede di hotel Cerca un ristorante nelle vicinanze Ecco le schede di ristorante Cerca un ristorante a Sangano Ecco le schede di ristorante Cerca un ristorante a Torino Ecco le schede di ristorante Una piccola informazione Informazioni su Milano Ecco informazioni editoriali Informazioni di Milano Secondo Wikipedia Milano è un comune italiano di 1.353.882 abitanti Capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia Informazioni sull'Italia Secondo Wikipedia L'Italia ufficialmente repubblica italiana È una repubblica parlamentare situata nell'Europa meridionale Con una popolazione di 60 milioni di abitanti e capitale Roma Quando si andrà a votare? Abbiamo provato qualcosa di aggiuntivo senza averlo ancora provato Ci è venuto in mente in questo momento Proviamo Informazioni su Marte Secondo Wikipedia Marte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole È l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e la Terra Come potete vedere troviamo un po' di tutto Informazioni su Google Le aziende non sembrano ancora essere censite Apri il sito internet nexuslab.com Come potete vedere ci ho fatto una normale ricerca Sempre meglio di niente Volevamo giusto testare insieme a voi Nuove query Nuovi strumenti di ricerca Inseriti in Google Now in italiano Che sono stati scoperti da poco Che abbiamo scoperto con voi Che si interfacciano quasi tutti Comunque o con Google Maps O con Wikipedia Per dare informazioni Se ne scoprite altre potete inviarceli nei commenti Sia del video Sia invece dell'articolo Un saluto da Alessandro Bertola per Nexus Lab